Dopo un cammino di fidanzamento, siete giunti a questa scelta, cioè vi siete conosciuti, non so, forse 8-10 anni di fidanzamento più o meno, e avete deciso, non per caso, ma unendo il cuore e la mente, di sposarvi. Ma questo sì, vedete, va rinnovato ogni giorno della vostra vita. Ogni giorno, appena vi alzate, ricordatevi di questo sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che un sì che non è soltanto in questo momento, pronunciato tra l'altro non davanti a un funzionario politico, ma davanti al Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.